Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani si trova a Firenze in programma un incontro con la DS della Fiorentina Pradè e il responsabile del settore giovanile Viola Valentino Angeloni che come già raccontato quasi un mese fa è un grande stimatore di Marco delle Monache. La Fiorentina è concretamente interessata al nazionale Under 17 delle Monache. Al pari di Veroli e Sorrentino è stato forgiato dal tecnico della Primavera Gigi Iervese. Assolutamente prezioso il lavoro dell'allenatore pescarese. Si parlerà anche della centrale Mancino Lorenzo Romani classe 2005 che la Fiorentina dovrebbe riscattare dal Delfino. Sebastiani chiederà a Pradè il prestito con diritto di riscatto del 21enne attaccante Samuele Spalluto che col gubbio nella sua prima stagione da professionista ha realizzato 11 gol. Toto allenatore come anticipato nel corso della trasmissione solo calcio di lunedì scorso al Pescara è stato proposto l'ex Alberto Aquilani che bene sta facendo la guida della Primavera Viola. In realtà non ci saranno sviluppi. Dellicarri infatti continua a dialogare con Colombo e Zeman ed ecco l'indiscrezione. In questi minuti Daniele Dellicarri starebbe incontrando Zeman. Il primo contatto telefonico risale a sabato scorso. Via Libera dunque al ritorno del Boemo. Sull'argomento Sebastiani ha precisato. Decide Dellicarri. Attese novità. Sarà fumata bianca? Per Zeman sarebbe la terza volta a Pescara dopo la meravigliosa cavalcata della 2011-2012 e la complicata esperienza vissuta tra il febbraio 2017 e l'esonero di inizio marzo 2018.